Dal 22 al 24 agosto in piazza Chanoo c'è Giocaosta. Shhh! Non ditelo a nessuno! Più di 400 giochi in scatola, giochi giganti, tornei, calcio balilla, giochi di ruolo, tutto il divertimento a vostra disposizione! Più di 150 peletage! Oltre 5.000 visitatori nella scorsa edizione! Più di 500 peletage! Vieni giù c'è giocaosta! Cosa c'è? Giochi Shigao! Yusufu Tenji! Giochi a stranci! E' un torneo del biliardino! Un ciclo tabù! Giochi del ruolo! Parole crociate! Perchè in vecchio è solo chi smette di giocare! Beh! Lo sapè che io provo sofferencia a saperli chiuso in casa! Vieni giù c'è giocaosta! Tieni giù c'è giocaosta! No, non ci vediamo solo! Ciao!